Giovedì 18 maggio, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa. Occupiamoci subito dell'attacco hacker all'ASL Avezzano, l'Aquila sul Mora, ASL 1. Ebbene, proseguono gli interventi di normalizzazione delle attività diagnostiche, ambulatoriali e assistenziali. Così, in una nota, il vertice dell'ASL provinciale dell'Aquila, il manager Ferdinando Romano, fa il punto della situazione a circa 15 giorni dall'attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico e paralizzato servizi e prestazioni. Restiamo in Abruzzo, restiamo all'Aquila dove è stato presentato il volume, il restauro della chiesa di San Silvestro alla presenza del prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco e del rettore Edoardo Alesse. Per noi c'era la collega Sabrina Giangrande, sentite. Presentato all'Aquila il volume dal titolo Il restauro della chiesa di San Silvestro all'Aquila, curato dall'architetto Augusto Cicciotti con le foto di Antonio Di Cecco, Textus Edizioni. Siamo molto contenti perché dopo il restauro e la riapertura della chiesa, oramai qualche anno fa al pubblico, siamo qui per presentare un libro che racconta questo restauro, perché il restauro è soprattutto ridare alla comunità un luogo come questo, ma è anche lasciare intatta la memoria, e la memoria la si lascia intatta per quanto riguarda i lavori, quello che si è fatto, come si è proceduto, proprio attraverso la carta stampata. Abbiamo pensato fosse stato giusto pubblicare un consuntivo scientifico e nonostante le difficoltà degli anni scorsi, insomma, abbiamo portato a termine questa iniziativa, questo progetto editoriale con numerosi contributi che richiamano sia le attività, le lavorazioni svolte, che anche una ricerca sul tema. Nel momento in cui ho iniziato a lavorarci ho pensato di lavorare con la sola luce naturale all'interno e quindi questo ovviamente mi ha permesso di far emergere molto la materia di cui si compongono appunto le forme, i volumi dell'architettura, quindi è stata un po' una sorta diciamo di rincorsa continua verso la luce, quindi un continuo attraversare la chiesa proprio alla ricerca di queste forme che ovviamente con il restauro sono riemerse nel massimo splendore e la materia stessa ovviamente ne ha guadagnato di lucentezza. Documenta un'opera di grande valore, non solo dal punto di vista architettonico ed estetico, ma anche culturale. È un patrimonio che viene restituito alla comunità ecclesiale e sociale di L'Aquila, ma una valenza non soltanto locale ma universale, perché ciò che è bello appartiene a tutti. I quotidiani locali iniziamo da primo piano Molise che apre con le regionali di fine giugno e caccia al candidato. L'innalzamento della soia di sbarramento al 5% e la cancellazione della surroga complicano la vita a partiti e movimenti. Chiudere le liste ora diventa un'impresa. In corsa con Gravina l'assessore di Isernia Nicolina del Bianco, la leader della Will Boccardo, conferma i contatti con il centro-sinistra. E a proposito di regionali, un summit dietro l'altro, lavori in corso. Roberti Lima, il programma, il capo del centro-destra, ha incontrato Cesa e questa mattina terrà una conferenza stampa con Michele Iorio. In taglio centrale l'alluvione in Emilia-Romagna, partiti i soccorsi dal Molise, una colonna di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Campobasso e Isernia a Forlì e Cesena per aiutare la popolazione messa in ginocchio dal maltempo. A Venafro archiviato il voto in comune e già toto assessori deleghe a tutti i consiglieri. A Campo Marino e Olico a Nuova Cliternia, il Tar annulla gli atti di regione e sovrintendenza. A Campobasso, omotransfobia, una denuncia settimana al centro LGBT. A Isernia, carta di credito rubata, incastrati dalla notifica sul telefonino del titolare. In taglio laterale c'è il punto firmato, quest'oggi da Fiora Luttazzo, il titolo è questo. Chi sono i dirigenti migliori? Mentre sotto la testata ci sono i richiami di sport con il Campobasso che cerca il nuovo allenatore. Ebbene, ore calde per il mister, Ferraro e Danucci sono in pull, resiste l'ipotesi per Golizzi. A Vasto Girardi, dilucente, annuncia che Coletti non rientra nei piani del club domani. Il patron degli altomolisani incontrerà il direttore sportivo e da lì si andrà a scegliere il nuovo allenatore. Calcio a 5, circolo la nebbia. Cus Molise pronto alla sfida decisiva contro la Hornets Roma. In palio c'è la Serie A2 Elite. Lasciamo primo piano Molise. La prima pagina del centro propone questo titolo di apertura. Corso Vittorio chiude tre settimane. A Pescara, a giugno, il via, ai lavori per rifare la pavimentazione. Stop alle auto. In taglio alto, apocalisse in Emilia, nove morti nel fango e migliaia di sfollati. Abruzzo, gli effetti del maltempo, coltivazioni allagate e costerà di più la spesa delle famiglie. E poi una serie di approfondimenti, furti e rapine. Scatta il piano del prefetto. Città al setaccio. Operazione alto impatto. Siamo a Pescara e parliamo ovviamente di sicurezza. E a Pescara sono ore di trepidante attesa per la squadra bianco-azzurra. Riparte la caccia alla Serie B. Il Pescara stasera a Verona. L'andata dei play-off sul campo della Virtus Verona. E nell'immagine c'è il tecnico Zeman. E poi, domenica all'Aurum, ecco il Pescara per la legalità. 100 minifilm in concorso. Ancora lutto in comune. Dipendente muore a 55 anni e resa dei conti tra Masci e gli assessori. Qui parliamo ovviamente dell'Aggiunta. Cremonese diserta l'Aggiunta e il sindaco Masci convoca per oggi un'altra seduta. E poi c'è questa notizia particolare. In chiesa, offerte col Bancomat. Prato-La Peligna, via alle donazioni con il POS e con il telefonino. Infine, Francavilla, spunta, opera inedita del pittore Michetti. E poi l'appello dei sindaci. Area vestina colpita dai nubifraggi. Aiutateci, questo l'appello. Il messaggero Abruzzo apre invece con i treni, rebus, finanziamenti. Roma-Pescara sì della regione alle modifiche concordate tra RFI e i comuni del Pescarese. Ma adesso scoppia il problema delle aree interne. Pochi fondi in rivolta i sindaci della Marsica. E poi Parco d'Abruzzo. Ce ne siamo occupati ieri nel telegiornale. Salgono a nove. Abbiamo parlato del Parco d'Abruzzo che compie 100 anni. Salgono a nove i lupi uccisi. Trovate le esche avvelenate. E ancora Alpini, abusi al raduno. Ci sarà un processo. Ter-L'Aquila, il caso riaperto dalla Cassazione dopo l'assoluzione in appello dei due imputati. Mentre a Teramo molestie durante la vacanza. Bambina accusa zio indagato. Ed ancora terremoto, accoglienza degli sfollati. Arrivano i soldi agli hotel. Il commento che abbiamo trattato ieri nel corso del telegiornale. E parla il presidente di Federalberghi Teramo, Gianmarco Giovannelli. Che dice finalmente. In taglio centrale, frane e allagamenti. Pescara conta i danni. Nello scatto c'è l'apertura di un invaso saturo di acqua. Ma il maltempo in regione, gravi danni a Bucchianico. Ed ancora, vediamo qualche altra notizia. Brevetti, Chieti, Batte Milano. Un boom di invenzioni. Lo definisce un fenomeno il messaggero Abruzzo. che invece sotto la testata si occupa della vicenda della terapia intensiva. Salvata neonata di soli 650 grammi. Intervento pilota, così lo definisce. Mentre a Chieti, ferri chirurgici di Gianmarco. A giudizio per corruzione. E poi lo sport con questa sera il Pescara a Verona. Inizia l'avventura nei play-off con l'obiettivo di centrare la Serie B. Andiamo sui quotidiani nazionali. Ovviamente tutte le aperture sono su ciò che è accaduto nelle ultime ore in Emilia-Romagna. con delle grandi foto anche impattanti come quella scelta dal Corriere della sera morti e sfollati come un terremoto. Guardate questo scatto, questa immagine. Alluvione devastante in Emilia-Romagna. Almeno nove vittime in decine di migliaia costretti a lasciare le case. 21 fiumi esondano, l'acqua invade campagne e città. Danni per miliardi, frane anche sui binari. Bloccata la 14 consiglio dei ministri il 23. Poi ci sono in primo piano tutti gli approfondimenti. Il racconto, la fuga, la paura non finiva più. Le altre storie, i drammi usciti e travolti per i loro animali, per tentare di mettere al sicuro gli animali. E poi i soccorsi a nuoto, così ho salvato quel bambino. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Repubblica che sceglie questa foto, che davvero dice tutto di ciò che è accaduto in queste ore. A Budrio, un'immagine aerea in provincia di Bologna, dopo le esondazioni per le piogge nella regione. Il titolo non poteva che essere questo. Sott'acqua, i fiumi rompono, gli argini in Emilia-Romagna, nove morti, oltre 10.000 sfollati. Bonaccini dice come un terremoto. Dall'Appennino alla costa, molti paesi isolati, dalle frane, dagli allagamenti, annullato il GP di Imola. Piogge tropicali sull'Adriatico è l'effetto del clima mancato. Ci sono gli approfondimenti, il commento, i giorni dell'Apocalisse di Gabriele Romagnoli. Repubblica si occupa anche di altre vicende, di politica, con la scalata al potere dei commensali di Carminati ed anche della diatriba tra Calenda e Renzi. Renzi fa il gruppo e così Italia Viva spinge Calenda nel misto. I quotidiani romani. Iniziamo dal messaggero che sceglie la stessa foto di Repubblica, foto che verrà scelta anche da altri quotidiani. Come vedremo, affogati nel fango, Emilia Romagna in ginocchio, nove morti, 28 mila sfollati, il governo pronto, un miliardo, Formula 1 salta il GP di Imola. Le vittime, anziani in trappola, muoiono in casa loro. Il sopravvissuto, 11 ore sul ramo per salvare i suoi cani. E poi l'ex capo di Italia Sicura, D'Angelis, dice avremo altri disastri se non si agisce ora. Ecco, il problema è proprio quello della prevenzione. E poi lupi, griffoni e corvi avvelenati, il mistero del parco d'Abruzzo. Polpette alla stricnina, nei boschi, l'ombra dei cacciatori di tartufo. L'altro quotidiano romano, il Tempo, apre con l'emergenza maltempo e con il sostegno del governo. Subito 20 milioni stanziati i primi fondi a favore dell'Emilia Romagna, colpita dall'alluvione. Sale il bilancio del disastro. Nove vittime e diversi dispersi. Ci sono oltre 13 mila gli sfollati. Come vedete il numero degli sfollati cambia da quotidiano a quotidiano. Ovviamente il calcolo è in divenire. Su proposta di Salvini ha annullato a Imola il GP di Formula 1 in programma domenica. E poi i francesi schizofrenici su Meloni, elogi da Macron, ma d'Armanin è duro. Questa dunque anche la notizia di politica internazionale. Lasciamo il tempo. Andiamo sul fatto quotidiano che accusa il Partito del Cemento. Il Partito del Cemento uccide, questo il titolo più importante, un altro terremoto, alluvione in Emilia Romagna. Nove morti e 10 mila sfollati. Leggi su clima e suolo ferme. Regione col record di impermeabilità. Mentre in Taglio Alto, Nordio copia Cartabia e prepara il ribavaio ingiustizia. Scrive il fatto quotidiano con Scarpinato che dice salvaladri intatto. Vediamo anche la prima pagina degli altri quotidiani. Dopo il fatto quotidiano vediamo il manifesto. Anche il manifesto sceglie questa foto davvero impressionante. Foto di Budrio. La vediamo meglio. Tempo scaduto il titolo. Questa è l'immagine. Nove morti, 13 mila sfollati sotto le piogge eccezionali ormai non più così eccezionali. L'Emilia Romagna cede, Faenza va sott'acqua, Cesena sale sui tetti, Bologna galleggia e nella notte si ricomincia. Non si diceva siccità ma in realtà è lo stesso fenomeno. E sì perché il terreno che diventa troppo duro non riesce ad assorbire l'acqua. La verità invece punta su tamponi e mascherina. Un'altra presa in giro. La corsa a tappe mette a nudo le ipocrisie. Mentre il sole 24 ore si occupa ovviamente delle vicende in Emilia Romagna e parla di catastrofe d'acqua. In Romagna morti e migliaia di sfollati, aziende alle corde fisco, mutui lavoro, primi aiuti in vista. E poi si occupa di brevetti. Milano perde il tribunale proprietà intellettuale. Via il primo giugno competenze di Londra per ora a Parigi e Monaco di Baviera. Resta ancora senza esito il confronto per affidare una sede centrale all'Italia. Chiudiamo con la gazzetta dello sport con la Rosa con un City da paura che ha strapazzato il Real Madrid. Ieri sera 4-0. Non c'è stata mai partita. Vai Inter. I marziani di Pep Guardiola sfidano i nerazzurri. La partita perfetta. Quattro gol al Real, come vi dicevo, e Carletto Ancellotti Travolto. Inzaghi studia come battere Guardiola nella finale di Istanbul. Già 100 milioni incassati dal club, tifosi impazziti, caccia ai biglietti. Ma non c'è solo l'Inter. Prendiamoci tutte le finali. Juve e Roma per il derby d'Italia. Allegri parte da 1-1 e pensa a Kinn. Mou Mourinho difende l'1-0 e polemizza. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti, il palinzesto. Cosa troverete oggi sulla nostra rete? C'è alle 11 personaggi e situazioni del teatro Isernino. Poi ti racconto il Molise Iserni. Alle 14 l'informazione. In diretta c'è piazza Molise Ferrazzano. Poi il teatro. Alle 19 ancora l'informazione col collega Pasquale Damiani. Alle 21 Molise Sport. Non perdete questa puntata condotta da Francesco Presutti. Tanti argomenti in primo piano. Si parlerà anche delle salvezze del Vasso Girardi e del Termoli di Calcio di Serie D. Ovviamente anche del Campobasso. Alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per averci scelto.